L'Amarone, il vino più importante della provincia veronese. È un vino che nasce oltre 50 anni fa, ma che ha avuto un grosso riconoscimento internazionale negli ultimi 30 anni. Pur essendo un vino importante dai 14 ai 16 gradi, è un vino molto morbido, che piace a tutti e che si abbina a tutte le cucine del mondo. A seguito delle nostre esperienze, possiamo dire con sicurezza che l'Amarone si può produrre solamente in Valparicella, per due ragioni. La prima è il terroir, il terroir. Secondo, la capacità di sopportare in modo veramente benefico l'appassimento della corvina e della rondinella. Il nostro sistema di lavoro parte dalle vini, con grande passione e grande cura, nella scelta dei ceppi, nella scelta del sesto d'impianto e nella lavorazione. Noi esportiamo Amarone in 50 paesi. Stabilire quali sono i paesi più attenti oggi è molto difficile, perché il mercato è molto competitivo e gli importatori e i consumatori sono molto attenti, avendo la possibilità di gustare e degustare i vini di tutto il mondo. C'è molta competitività, ma la gente sta imparando a bere bene. L'Amarone è un vino che se ne deve poco, però vi ha ragione, perché è alcolico, è ricco e va abbinato a piatti importanti. Ma perché è buono? Se ne beve di meno, ma se ne beve meno. E' proprio buono, però, è proprio buono. Amore. 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 Grazie a tutti.